buon ciao raga benvenuti dal vostro amichevole nonno della rete in questo nuovo video che vi ho portato il mio nuovo mazzetto nella dalla serie budget standard non rare vi ho portato un mazzetto simic dove volevo utilizzare determinate carte che standard per ora non sono tanto forti per il meta e questo questa è una di quelle carte si chiama il gigante del mare settimana 5 6 tra cui 1 settimana 1 blu e 6 in colore questa magia costa 1 in meno per essere aranciata per ogni incantesimo che controlliamo potremmo giocare questa carta turno 4 avere una bella 5 6 come andiamo a vedere piano piano tutte le carte iniziamo dalle creature dai abbiamo quattro ingrandiamo ok 4 filatrice del destino 2 mano 2 3 ma le magie creature incantesimo che controlli non possono essere neutralizzate con mana verde e 3 in colore una terra bersaglio che controlliamo diventa una creatura elementare xx con travolgere rapidità dove x è il numero dei nostri incantesimi che controlliamo ed è ancora una terra carta veramente fortissima già il 2 mano 2 3 è l'abilità statica rende la carta forte ma con l'abilità attivata è una bomba un'altra bomba rimanendo nella parte incantesimi e la chimera alla splendente 4 mano 3 2 all'inizio con volare all'inizio del nostro mantenimento possiamo far tornare fino a un altro incantesimo bersaglio che controlliamo in mano al nostro al suo proprietario quindi ci rimbalziamo i nostri incantesimi per poi rigiocarli 2 e utopia favorita due volte è una multicolore blu verde è un incolore quindi 3 mana 2 2 costellazione quindi ogni qualvolta un incantesimo entra nel nostro campo di battaglia metti mettiamo sotto al nostro mettiamo un segnalino più 1 più 1 sulla creatura bersaglio e quella creatura guadagna volare fino alla fine del turno 2 renata una creatura incantesimo leggendaria anche lei finalmente la utilizzo 2 mana verdi 2 in colore x3 la forza di renata è pari alla devozione col verde e ogni qualvolta una creatura che controlliamo entra sul campo di battaglia prende un segnalino più 1 più 1 addizionale e quindi 4 gigante del mare partiamo con incantesimo forte quattro stagione della crescita 2 mana ogni qualvolta una creatura entra ai capi battaglia profetizziamo 1 ogni qualvolta lanciamo magia che bersaglia creatura che controlliamo peschiamo una carta e abbiamo quattro benedizione del guerraspino 2 mana in aura incantiamo creature che controlliamo quando entra ai campi battaglia possiamo far lottare una nostra creatura con la creatura che non controlliamo e in più un incantesimo da un più 0 più 2 fisso un bel removal quattro addestramento di setessa 2 mana incanta creatura che controlliamo anch'essa quando entra in gioco peschiamo 1 e in più la creatura incantata prende più 1 più 0 e travolgere quattro manto illuminato di stelle aura con lampo che da più 1 più 1 alla creatura incantata e in più fino alla fine del turno quando lei entra in gioco diamo antimalocchio alla creatura incantata 4 rifugio di lupus alix incantaterra che ogni volta la terra incantata viene tappata per aggiungere mana il suo controllore aggiunge umana verde addizionale con 5 mana possiamo sacrificare l'aura per creare un lupo 2 2 e infine tre presagio del mare incantesimo lampo a 2 mana entra in gioco profetizziamo 2 poi peschiamo 1 e con 3 mana possiamo sacrificarlo per profetizzare 2 21 terre va bene le terre le vediamo dopo volevo prima spiegare un po di carte la chimera ci fa rimbalzare carte come il presagio come il manto l'addestramento e soprattutto la benedizione di quella sfida così per attivare le loro abilità innescate poi con il con la stagione ci fa pescare di più ogni volta giochiamo un incantesimo un incantesimo aura sulla nostra creatura quindi andiamo a ribalzare la rigiochiamo peschiamo attiviamo l'abilità può fare removal forte poi se c'è costellazione lo rifacciamo questa livelli malvurre una creatura incantesimo veramente simpatica questa creatura mentre il gigante del mare andiamo a vedere un attore terre 3 6 9 10 foreste 3 6 7 isole e 4 cascate di bosco rovo dato che budget ci ho preso quello che guadagni il punto vita quindi al turno 1 diciamo non abbiamo niente facciamo al turno 2 possiamo buttare per terra un rifugio al turno 3 possiamo giocare facciamo la giocata base per dire lei con con lei o anche lei con lei e quindi al turno 4 abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 solo facendo così già possiamo giocare lei perché lei lui il gigante costa in questo caso 3 meno e non e non ho giocato terra costa 3 meno vi trovate 1 2 3 costa 4 male io ho tappato 4 andiamo a fare la giocata migliore giochiamo sempre terra diamo più 1 più 0 e lei e peschiamo o ancora meglio avere una stagione della crescita due mano con due mano poi giochiamo lei e peschiamo 2 1 2 3 4 5 no non ce la facciamo a fare ciò perciò potremmo fare due mano a lei 1 2 3 4 5 6 ho sbagliato i calcoli ok allora no allora giocare così direttamente si come si faceva eh si ah no ok era fare poco la la porcata assurda era quella di giocare un altro lupus alix infatti si no perché lo feci su discord contro feci qualcosa di assurdo tipo feci così ok 1 2 3 4 2 mala ok si 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 mi sono ripreso stagione della crescita 1 2 3 4 5 2 7 eccolo qua è un abbordo da paura è questo proprio fortissimo perché poi ogni euro che giochiamo ci fa pescare abbiamo lei per profetizzare abbiamo loro che ci danno un sacco di mala e possiamo arrancare tantissimo ok raga spero che vi è piaciuto questa deck profile fatemelo sapere con un like iscrivendovi al canale e soprattutto commentate richiedendo il vostro deck dal vostro nonno della rete è tutto ci vediamo al prossimo video bella voglio è tutto ci vediamo al prossimo video